Il cuore di Cristo è quello di Dio che spalanca le braccia ai peccatori e col suo perdono offre loro una vita nuova, una guarigione, guardandoli con speranza, vedendo una possibilità di risurrezione anche in chi ha accumulato tante scelte sbagliate. L'ho sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale, tenuta in un'Aula Polo VI riempita di fedeli e dedicata al perdono divino motore di speranza. Comentando l'episodio evangelico della peccatrice che lava i piedi di Gesù nella casa di Simone il Fariseo, il Papa ha ricordato che la simpatia di Cristo per gli esclusi è una delle cose che più sconcertano i suoi contemporanei, ma Gesù condivide il dolore umano e dona la sua misericordia e questo suo perdono gli costa la croce, più del sanare i malati e predicare la carità. Il figlio di Dio va in croce soprattutto perché perdona, perdona i peccati, perché vuole la liberazione totale, definitiva del cuore dell'uomo, perché non accetta che l'essere umano consumi tutta la sua esistenza con questo tatuaggio incancellabile, con il pensiero di non poter essere accolto dal cuore misericordioso di Dio. Così i peccatori sono perdonati, non solamente vengono rasserenati a livello psicologico, il perdono ci rasserena tanto, perché liberati dal senso di colpa. Gesù fa molto di più, offre alle persone che hanno sbagliato la speranza di una vita nuova. Ma signore io sono uno straccio, guarda avanti e ti faccio un cuore nuovo. Questa è la speranza che ci dà Gesù, una vita segnata dall'amore. La Chiesa non è dei cattolici che si sentono perfetti e disprezzano gli altri, ha concluso Papa Francesco, perché Dio non ha scelto come primi per formare la sua Chiesa persone che non sbagliavano mai. Siamo tutti poveri peccatori, bisognosi della misericordia di Dio che ha la forza di trasformarci e ridarci speranza ogni giorno.